Nuovamente in diretta con ore 7, come di consueto la terza parte di questa trasmissione viene sempre riservata all'ospite e l'ospite di oggi è Francesco Gioia, direttore dell'orchestra Audimus, ma è anche presidente dell'associazione che giovedì a Lignano propone, ti chiamo presidente o direttore? Francesco, va benissimo Francesco, allora che cosa succede giovedì? Allora noi siamo a, intanto buongiorno, grazie per avermi fatto venire qui, dunque noi giovedì 5 settembre abbiamo questo concerto sinfonico nella chiesa di Lignano Sabbiadoro dove eseguiremo un importante programma con l'orchestra Audimus in quanto abbiamo due autori famosissimi che sono Josef Haydn e Ludwig van Beethoven dei quali eseguiremo all'inizio una overture, l'overture coriolano, celebre overture bethoveniana dalle fosche tinte un po' tipica insomma dell'autore, poi avremo l'ultima sinfonia scritta da Haydn chiamata la London, che è un po' il suo testamento ecosinfonico e poi per concludere il concerto l'ottava sinfonia di Beethoven, una sinfonia meno conosciuta rispetto alle famosissime altre ma molto molto interessante e con un gran finale quindi proprio adatto a chiudere il concerto diciamo intanto a che ora inizia? Allora il concerto inizia alle 20.45 dicevo nella chiesa l'ingresso è libero come la maggior parte dei nostri concerti dato che noi ci rivolgiamo a un'opera divulgativa della cultura sul territorio e quindi non occorre comprare biglietti, prenotarsi, magari arrivare un po' prima in modo che se c'è tanta gente si trova il posto per sedersi e mi piace anche ricordare questa cosa che noi da un po' di tempo facciamo, abbiamo lanciato questa iniziativa come associazione che si chiama una sedia in orchestra, cosa vuol dire? Vuol dire che chi lo desiderasse mandando una email o contattandomi, comunque posso dire la mia email è gioia underscore francesco chiocciolalibero.it può prenotare una sedia all'interno dell'orchestra, questo vuol dire che anziché assistere al concerto dalla parte del pubblico come si fa sempre, questa persona può sedersi a fianco ai musicisti dentro l'orchestra e vivere da lì il concerto, cosa garantisco per chi non conosce cosa vuol dire insomma suonare all'interno di un'orchestra è un'esperienza del tutto peculiare perché si sentono cose diverse, si guarda in faccia al direttore che non lo si vede mai di faccia, sempre di schiena, è un'esperienza. Scusa, voglio dire, ripetiamo la mail? Allora gioia trattino basso francesco chiocciolalibero.it ma l'associazione Audimus si trova anche su facebook, su internet insomma Ma e quanta gente può candidarsi? Beh diciamo che a seconda della dimensione dei concerti c'è ovviamente un limite di solito al massimo sono 7-8 persone non di più perché altrimenti dopo si comincia ad essere stretti all'interno dell'orchestra quindi ecco fino a 7-8 di solito se ce la facciamo. Allora il nostro registro sta mandando delle immagini, mi ha dato anche la locandina che ricorda quello che succede in 5-17 ma ti chiedo il nome della vostra... Certo. Perché quel nome... Come mai? Allora il nome è Audimus e l'origine di questo nome è stata una folgorazione notturna come succede perché cercavo ovviamente un nome che simboleggiasse la nostra attività o comunque un acronimo da costruire e Audimus è nato perché Audimus è il verbo latino ascoltare e però le sigle di Audimus vogliono dire artisti uniti per la diffusione della musica strumentale. Audimus è venuta bene, è nata così E' venuta a te? E' venuta a me, è venuta a me, mi è apparsa. Non è malva. No è carina, è carina Devo dire la verità. E nasce quando Audimus? Nasce nel 2012 da un'esigenza potremmo dire, da un desiderio e cioè è quello di riuscire a radunare professori d'orchestra, giovani colleghi che avevano studiato con me in conservatorio per dare voce, dare spazio a quella che è l'orchestra che può essere naturalmente ora più grande, ora più piccola a seconda ovviamente delle occasioni ma soprattutto l'idea di fondo è stata quella di dire perché non è possibile dare al pubblico dei centri medio-piccoli, quindi negli auditorium eccetera, uno spettacolo live che sembra essere possibile solo nei grandi teatro, al Giovanni Daudine magari prima al Palamostre e così via. Una sinfonia, un importante pezzo orchestrale o lo ascolti lì oppure devi mettere il cd. Siccome noi sappiamo che ascoltare la musica dal vivo è un'altra vita abbiamo detto proviamo a far arrivare nelle maglie dei piccoli auditorium, delle piccole sale questa musica che sia ascoltabile dal vivo e magari anche senza pagare il biglietto appunto dato che i nostri concerti spesso non prevedono il pagamento. È nata così. Quindi di fatto se non occorre andare al Verdi o far chilometri, una musica che si avvicina anche a chi magari non è. Esatto e infatti la modalità con cui noi presentiamo questi altisonanti nomi, Beethoven, Mozart, Haydn, Tchaikovsky che fanno sempre un po' incutono quasi un timore reverenziale, uno sente il nome e già dice oddio non sono all'altezza o non fa per me io non so la musica. Viceversa quando noi presentiamo questi concerti la prima cosa che facciamo all'inizio è presentare questi brani e questi autori ma io cerco sempre di farlo più possibile dal lato umano facendo vedere che erano persone come noi che lottavano tutti i giorni con la vita, con guadagnarsi il pane e naturalmente ciò che hanno scritto deriva dalla loro vita quotidiana e quindi è molto più vicino a noi di quanto normalmente non si pensi di dire no io sono lontano da queste cose, in realtà siamo molto vicini ed è bello farlo apprezzare, farlo capire. Francesco chi sono i componenti dell'orchestra? Allora i componenti dell'orchestra sono moltissimi nel senso che dal 2012 fino ad oggi c'è stato un devo dire e sono orgoglioso di questo un grande numero di musicisti friulani provenienti peraltro da tutte e quattro le province che hanno voluto accompagnarci in questo viaggio in questa avventura, se dovessi dire un numero complessivo dei musicisti che hanno collaborato e collaborano con noi penso che dovrei parlare di un centinaio abbondante di musicisti, poi ripeto noi siamo una realtà naturalmente territoriale, un'associazione territoriale e quindi i nostri concerti variano diciamo da un massimo di 35 orchestrali fino anche nei gruppi più piccoli da camera al quartetto, quintetto 10-12 musicisti. Quindi c'è comunque una varietà anche negli spettacoli che offriamo che possono essere più sinfonici in senso ampio oppure più cameristici. Ecco musica classica per tutti, quindi voi che di fatto vi avvicinate all'utenza, ma anche il fatto di avere orchestrali che arrivano dalle quattro province, anche in questo caso non bisogna solo convergere verso le centrali che conosciamo, no? C'è dell'altro. Sì assolutamente, anche questo per noi è sempre stato un grande piacere, cioè essere aperti, coinvolgere più possibile. C'è un'altra caratteristica che a me è sempre piaciuta molto di Audimus, di come noi gestiamo questa esperienza orchestrale, cioè vale a dire che all'interno dell'orchestra tu trovi per esempio il diciottenne che ha magari, sta finendo di studiare o appena finito, si è appena diplomato e trovi anche la persona magari con esperienza già orchestrale, maturata, che è andato magari anche all'estero eccetera e questo fa sì che all'interno dell'orchestra si crei una sinergia tra chi sa che deve imparare tutto e chi sa che può dare la sua esperienza e questo è molto bello. Ecco, Dio denaro, sappiamo che cosa è successo, come vi mantenete? Vedi la situazione dell'orchestra sinfonica regionale che non vode di ottima salute? Assolutamente, alla quale testimonio la mia vicinanza anche perché conosco personalmente il 90%, il 95% dei musicisti della Ex-Mitell'Europa, adesso vedremo cosa succede. Come ci manteniamo? Allora è chiaro che noi ci rivolgiamo a comuni principalmente, qualche sponsor che ci segue, che ci dà una mano, anzi posso citare volentieri Eurotech, posso citare Friuli Coram, posso citare la fondazione Friuli che recentemente ci ha dato un contributo e ne sono molto lieto, è un riconoscimento anche del lavoro svolto, non vorrei dimenticare, ah lo studio Giorgiutti anche di Udine, ecco ma a parte questo diciamo che noi cerchiamo di fare degli spettacoli che siano abbastanza low cost, chi partecipa ad Audimus come musicista sa che non è che viene ad arricchirsi, non viene a prendere uno stipendio mensile, viene a partecipare prima di tutto a un progetto culturale e naturalmente deve ricevere il suo rimborso spese, questo è normale. È chiaro che è difficile perché organizzare un concerto per esempio con 30-35 persone comunque ha un suo costo, sebbene minimo, sebbene di base, però ce l'ha. È faticoso, sicuramente io mi do moltissimo da fare, cerco contatti, faccio vedere quello che abbiamo realizzato fino ad oggi e quando trovo qualcuno che crede in quello che facciamo e investe ha la nostra piena gratitudine e noi ci tuffiamo in una nuova avventura. Certo non è facile, non è semplice. Nuove generazioni rispondono o no? Ma io dico di sì perché come ho detto da noi ci sono ragazzi anche molto giovani, giovanissimi che hanno estremo piacere di partecipare a queste esperienze e certamente non vengono mettendo davanti l'esigenza economica, danno la loro disponibilità, questo è molto bello. Certo vorrei dire bisogna coltivare questo entusiasmo dei ragazzi, non bisogna farlo cadere dopo pochi anni perché si sa che l'entusiasmo c'è quando si è molto giovani, quando si comincia ad avere un'età, magari una famiglia, eccetera, già l'entusiasmo scema. Quindi bisogna assolutamente per me avere più coraggio nell'investire nella cultura. Adesso forse uso un'espressione un po' altisonante delle parolone, ma la cultura italiana è qualcosa di strepitoso, di straordinario, insomma non dobbiamo dirlo qui oggi, ma se perdiamo la voglia di investire seriamente nella cultura, nei giovani, nella divulgazione della cultura, siamo un paese senza futuro, dico io, magari sono di parte però. Francesco abbiamo visto delle immagini manate non dal nostro campigotto in bianco e nero, sono i componenti dell'orchestra. Certamente, sì, abbiamo alcune foto a colori, alcune in bianco e nero perché chi ci ha dato questi bellissimi scatti, voglio ricordare e ringraziare sia l'amico Paolo Dreosto, che poi è anche un eccellente fagottista, e anche l'amico Francesco Cecconi, un altro musicista e fotografo, che vengono ogni tanto a seguire il nostro lavoro, le nostre prove, e questi sono degli scatti, per esempio presi dall'ultimo concerto, prova e concerto che abbiamo fatto, che è stato il 2 di agosto, in Duomo a Udine, queste sono le prove nella sala della banda di Pradamano, che ringrazio e saluto perché ci danno un grandissimo appoggio e ci aiutano a perseguire questo progetto, ad esempio fornendoci una sala molto bella dove poter provare, quindi è un grazie molto sentito. e questo è, noi cerchiamo di, ripeto, di lavorare a testa bassa nel tentativo di portare sempre avanti questa idea e questo progetto. Se posso, non so se me lo volevi chiedere già, prossimamente, quindi a dicembre, ricorrerà il primo anniversario della morte del maestro Canciani, il creatore del museo La Mozartina di Paolaro, che è stato un mio maestro, mentore e amico, vorrei dire. E l'orchestra Udimus sarà in prima fila per celebrare questo primo anniversario insieme al figlio Daniel Canciani, molto probabilmente ci sarà un concerto a Udine, ne stiamo parlando in questi giorni con l'amministrazione comunale, e poi, spero, ci saranno alcune repliche sempre di questo concerto, con musiche interamente del maestro, ecco, e sarà, spero, una celebrazione che lo farà conoscere di più, perché era un uomo straordinario di cultura, meritava, e è stato un po' relegato alla sua Paolaro, ma è un uomo di grande respiro. E tra l'altro, proprio ieri a Paolaro, la Mozartina è stata protagonista, c'è stata la manifestazione Miss Tears, e proprio la Mozartina era visitabile, proprio la nostra Paola Treppo ne ha parlato nel nostro telegiornale delle 19 di sera. Allora, io saluto il direttore e il presidente dell'orchestra Udimus, ricordo l'appuntamento del 5 settembre, duomo di Lignano Sabbiadoro, 20 e 30, per chi vuole, mi ha molto incuriosito questa cosa, ci sono 7, 8, 10 posti, per chi vuole stare accanto agli orchestrali, basta mandare la mail al nostro direttore e presidente, Francesco Gioia, il nostro Campigotto ha mandato anche la pagina Facebook, ha andato evidentemente a cercarla, quindi per agevolare l'accesso e l'avvicinamento di voi che ci guardate da casa a questa benedetta realtà della musica della bassa friulana e non solo, bocca al lupo. Creppi, grazie di tutto. Grazie a Francesco Gioia, noi adesso andiamo in pubblicità, ci vediamo tra poco. Grazie a tutti.